Francesco Cavallone, Gaetano Spano, Comunità Montana Vallo di Viano, importante intervento. Francesco Cavallone, di che cosa si tratta? Si tratta dell'acquisto di mezzi che servono a migliorare le performance lavorative dei nostri lavoratori della Comunità Montana per un importo di 527 mila euro. Come potete vedere l'attrezzatura è svariata, ci sono varie attrezzature specifiche che tendono proprio a mitigare quello che è il dissesto idrogeologico anche per cercare di prevenire e di intervenire tempestivamente su quanto ci sono relativamente all'antincendio. Come potete vedere ci sono una serie di attrezzature che sicuramente miglioreranno quelle che sono le performance dei nostri operai, sono state sostituite delle attrezzature abusolette con queste di nuova generazione che migliorano sicuramente anche la sicurezza del lavoratore e nell'esercizio del proprio lavoro. Per noi è un motivo di grandissima soddisfazione, voglio ringraziare il dottore Natiello per lo zero, la precisione, la puntualità che sta dimostrando nel suo lavoro per aver effettuato questa gara e anche perché dobbiamo dire che quest'anno abbiamo ottenuto un altro grande risultato, gli OTD, gli operai a tempo determinato, sono già in servizio dal 4 marzo quindi abbiamo anticipato la presa di possesso da parte di questi nostri lavoratori che potranno già intervenire sui vari cantieri anche alla luce della circostanza che sappiamo che vi è una carenza di risorse umane. Quindi sicuramente questi gli OTD, gli operai a tempo determinato, insieme agli operai a tempo determinato sicuramente si apprestano ad affrontare un'altra stagione lavorativa nell'interesse della collettività per prevenire determinate problematiche, per manutenere quelle che sono tutte le operazioni di propria competenza e sicuramente a loro un augurio in bocca al lupo di buon lavoro perché credo che sicuramente con la loro passione, la loro competenza, la loro specificità di lavoro sicuramente potranno fare un ottimo servizio per tutti noi cittadini. Assessore Spano, grande soddisfazione, delegato al settore, è un'operazione che è partita da lontano. Assolutamente sì, siamo molto soddisfatti, come diceva prima il Presidente la nostra missione era proprio quella di migliorare la qualità del lavoro dei dipendenti e è partita da lontano perché mesi fa tutti i parecchi operai hanno preso il patentino per poter utilizzare questi mezzi e sono svariati mezzi che possono essere utilizzati per svariato tempo quindi ci abbiamo visto lungo su questo acquisto che abbiamo fatto su questa procedura d'acquisto che abbiamo fatto. Ringrazio come ha detto il Presidente, il Dottor Natiello, che è stato preciso e puntuale vedendo pure le caratteristiche di ogni attrezzatura e calandola nel nostro territorio. Gli operai sicuramente con l'utilizzo di queste nuove attrezzature velocizzeranno il lavoro sono sicuramente mezzi più sicuri che aiuteranno sia a velocizzare ma sia ad avere la sicurezza all'interno dei cantieri. Quindi questa è la nostra mission, questo è quello che il Presidente si è preposto più volte di fare nelle varie riunioni, nei vari incontri che abbiamo fatto con tutta la Giuna naturalmente e siamo arrivati oggi alla presentazione di tutti questi mezzi che sicuramente daranno una linfa nuova agli operai ma a tutto il comparto della comunità montana.